La partita intera per te, non è la prima di questo mondiale ma questa era difficile? Sicuramente era una partita difficile, una partita giocata veramente fino all'ultimo punto in gola e non so cosa dire, sono stracontenta per come abbiamo giocato, sono contenta perché abbiamo vinto perché ci siamo divertite un sacco in campo e basta. Il divertimento lo trasmettete, dal campo si vince tantissimo e forse anche quello che nei momenti difficili lungo ci sono stati vi fa fare con lo scatto che poi vi fa tornare avanti. Sì, il discorso è che non voglio essere retorica, però il fatto è che questo gruppo è veramente un gruppo unito un gruppo che comunque sia sta bene insieme e penso che riesca a dimostrarlo anche in campo tanto quanto fuori quindi questa è la nostra arma in più forse. Le tue sensazioni più in generale in questa competizione, tu che l'hai conquistata all'ultimo, come sono? Come lo stai vivendo? Ma lo stai vivendo bene, io sono serena, sono tranquilla, quando ho l'opportunità cerco di dare il meglio di me e di fare il possibile per essere di aiuto alla squadra, questo è quello che cerco e che spero di riuscire a fare. Grazie, in bocca al lupo. Grazie a voi. Grazie a voi.